Secondo i dati INAIL, nei primi sette mesi del 2022 in Umbria sono stati denunciati 6.453 infortuni sul lavoro, di cui 11 casi mortali, e sulle territorio nazionale nei primi sette mesi dell'anno il bilancio dei soli morti sul lavoro superava quota 500. Una riflessione a 360 gradi sull'allarmante situazione del fenomeno infortunistico nel nostro paese sarà al centro delle Safety Expo 2022, la Fiera Nazionale sulla Prevenzione Incendi e la Salute e Sicurezza sul Lavoro, che si terrà i prossimi 21 e 22 settembre a Bergamo Fiera. Gli operatori del settore e le figure professionali della prevenzione e della sicurezza sono chiamati a confrontarsi e ad aggiornarsi su tematiche in costante evoluzione sul piano tecnico e normativo. Più di 100 gli appuntamenti in programma tra convegni, tavole rotonde, approfondimenti, corsi di formazione, spettacoli, presentazioni di prodotti, servizi e tecnologie, 270 espositori, tra cui la Climatec SRL di Perugia per il settore prevenzione incendi e la partecipazione di istituzioni, associazioni e dei più qualificati esperti dei settori di riferimento. Le novità legislative che hanno determinato modifiche significative nell'articolato del Decreto Legislativo 81 del 2008 saranno al centro della tavola rotonda inaugurale di domani.